Musica Dunque, io metto le mani avanti perché a differenza di chi di solito parla nei TED Talk non sto facendo una ricerca per curare il cancro, sto cercando di risolvere il problema del riscaldamento climatico, sono abbastanza sicuro che anche quest'anno non mi daranno un premio Nobel. Io disegno, disegno e anche nel mio mestiere capitano dei fatti curiosi. Tempo fa stavo lavorando alla copertina appunto degli Economist e il loro art director mi manda questa mail. Traduco. Luca, per favore, puoi fare il dito in maniera meno fallica? Per farvi capire, questa era l'immagine incriminata e io tutt'oggi proclamo la mia innocenza, nel senso che secondo me la somiglianza non è così estrema, è lungi da me mettere intenzionalmente un pisello sulla copertina di un magazine, che tra l'altro è molto autorevole, molto rispettabile. Da bravo professionista ho apportato le modifiche che mi erano state richieste e questa è poi l'immagine che è andata in pagina. Ve la mostro un po' per farvi capire quanto folle il mio lavoro possa essere a volte, ma soprattutto perché qui c'è una grande lezione. Nonostante la mia limpida e assoluta innocenza nelle intenzioni, in redazione erano preoccupati che questa immagine potesse essere letta in maniera completamente diversa dal pubblico. Questo perché, per dirla con una frase di Avener, che ormai è un assioma di tutte le discipline della comunicazione, la comunicazione non è quello che diciamo, bensì quello che arriva agli altri. Se io oggi mi trovassi davanti a una platea di ganesi o eschimesi, o comunque persone con cui non ho una lingua tipo l'inglese in comune con cui comunicare, questo TED sarebbe un po' più difficile di quanto già non sia in questo momento. Ho però un grande vantaggio nel mio lavoro, cioè che non devo comunicare con degli estranei tramite le parole, ma tramite le immagini. Sono abbastanza sicuro che siate tutti guardando la mia mano in questo momento. Questo non dipende dalla lingua che parlate, o a prescindere dalla cultura a cui appartenete, noi siamo tutti biologicamente simili. Quindi il nostro occhio e il nostro cervello è portato a concentrarsi istintivamente su alcune cose in particolare. una cosa che si muove su una scena altrimenti ferma. La mia mano che è più chiara di me è vestito di scuro. Questi sono meccanismi che ci hanno portato, si sono sviluppati per aiutarci a sopravvivere in un ambiente naturale. Quindi qualcosa che si muove in natura è una preda da rincorrere, o un predatore da cui scappare. Stessa cosa vale per i contrasti di colore, e infatti noi siamo particolarmente sensibili ai contrasti dei rossi sui verdi che non a caso sono il colore della frutta matura su uno sfondo di fogliame. Tutta questa introduzione per dire che queste sono reazioni puramente istintive. Cioè non importa da dove veniate, sono simili per tutti. Sono reazioni che ci hanno aiutato a sopravvivere in natura, ma entrano in campo anche quando guardiamo un'immagine artificiale. Cioè un'immagine che è stata progettata e pensata per comunicare qualcosa in particolare. Per questo motivo nel disegnare questa immagine ho scelto un blu che contrasta con lo sfondo giallo, di modo che il vostro sguardo sia portato a guardare la farfalla. Ovviamente ci sono molti più livelli di lettura, noi siamo molto di più delle nostre pure reazioni istintive. E una cosa secondo me molto affascinante di poter lavorare con le immagini è che posso comunicare con qualcuno che viene da una cultura totalmente strana alla mia. Ad esempio, io non parlo una singola parola di tedesco e questa immagine è stata pubblicata sul Dei Zeit, settimanale tedesco, sì. E nonostante appunto io non parli una parola della loro lingua, in Germania milioni di persone hanno visto e capito questa immagine. Anche voi capite che parla di vaccini, pur non sapendo leggere il titolo di questo giornale. Questi ponti che vengono creati fra diverse culture possono essere creati anche a livello temporale. Noi siamo addirittura in grado di vedere e riconoscere il disegno di un uomo preistorico e dire quella è una giraffa. C'è un però. Nel momento in cui usciamo dalle nostre mere reazioni istintive è necessario avere un'esperienza comune che preceda questa esperienza. Noi dobbiamo aver già visto una giraffa per poter riconoscere una giraffa nel disegno di un uomo preistorico. Questa immagine penso sia di facilissima lettura per tutti i presenti. Se noi l'avessimo mostrata, io l'ho disegnata nel 2017, ma se l'avessimo mostrata a qualcuno con la macchina nel tempo nel 1990 non avrebbe avuto senso, perché gli smartphone non si erano ancora diffusi, ovviamente non si erano ancora diffuse le app di incontri e allo stesso modo questa copertina che ho disegnato per The Economist ha senso per noi che abbiamo avuto la sfortuna di vivere la pandemia e quindi ci ricordiamo tutti il momento, che speriamo adesso non torni, in cui l'unico modo per uscire di casa era portare a spasso il cane. Mostrare questa immagine a qualcuno vent'anni fa non avrebbe avuto significato. Le immagini hanno inoltre un potere molto più immediato e conciso rispetto alla parola scritta. Vi propongo un altro piccolo esperimento. Provate a pensare che io sia un politico e che faccia un discorso al popolo con alle spalle questa slide. I caratteri sono abbastanza piccoli, ci mettereste un po' anche solo a capire in che lingua è redatto. Sono qua davanti da 10 secondi e non vi siete resi conto che è una pagina del Mein Kampf. Provate a pensare a un politico che parli davanti a questa slide. L'effetto è un attimo il più disturbante. Però attenzione, è un effetto che è data da delle convenzioni che dipendono dalla nostra cultura. Nella cultura asiatica, nella cultura indiana, la svastica è associata a dei significati completamente diversi come la pace, l'armonia, il dio sole e quindi c'è questa differenza. Il linguaggio visivo funziona con dei meccanismi spesso molto simili a quello verbale. Cioè noi abbiamo da una parte un significato, la giraffa, e dall'altra parte un significante che noi come convenzione leghiamo a quel significato, come appunto la parola giraffa. Questo vuol dire guarda al mare in finlandese, per farvi capire direttamente. Quindi un suono, cioè un significante, che per noi è un significato totalmente diverso, cazzo merda vuol dire guarda al mare in finlandese. Allo stesso modo un segno che può essere il crisantemo in Giappone è associato a significati di immortalità. Sapete benissimo che da noi il crisantemo è il fiore dei morti. Allo stesso modo, per stare in tema, se fossimo così sfortunati da dover andare a un funerale in Giappone e ci andassimo vestiti di nero saremmo gli unici, perché il colore funebre associato al lutto in Giappone non è il nero, bensì il bianco. E quindi appunto ci sono queste differenze tra quelli che sono i significati e i significanti. Addirittura in alcune culture c'è un rapporto totalmente diverso con il mondo delle immagini. Basti pensare che nell'impero ottomano, nel Cinquecento, vigeva l'aniconismo e quindi era fatto di vieto esplicito di rappresentare gli esseri viventi. Questo è solo in mano il magnifico, sultano di Costantinopoli, non proprio l'ultima ruota del carro, ed era costretto a rivolgersi a, questo è un dipinto di Tiziano, comunque i pittori veneziani per farsi ritrarre perché in patria questo non era concesso. Guardate adesso questa illustrazione, è un ovvio richiamo ai fatti di Piazzatina Men e l'ho disegnata tra gennaio e febbraio 2020. Vi ricordate tutti cosa stava succedendo? Il virus aveva appena cominciato a circolare in Cina, non era ancora diventata una pandemia e i giornali europei, questo è per l'Express in Francia, si domandavano come una cosa così minuscola come appunto il coronavirus fosse stato il granello di sabbia nell'ingranaggio che ha fermato l'avanzata del gigante cinese. Bene, quello che per noi è un'immagine relativamente innocua, in Cina è riceputata in maniera totalmente diversa, dopo averla bossata sui social media mi sono arrivate valanghe di insulti perché per loro è un tasto molto dolente la foto di Piazza di Tiananmen da cui è presa questa immagine. telefonata alle tre del mattino, insulti alla mamma, insomma cose brutte, la gente si offende. E il fatto è che ognuno di noi ha una propria cultura visiva, personale, e non sto più parlando di cultura occidentale e cultura orientale, o cultura italiana, cultura messicana, quello che volete. Sto dicendo che ognuno di noi ha un suo personale bagaglio di esperienze visive e di immagine che associa a determinati significati. Nel momento in cui noi vogliamo comunicare con un pubblico ampio ed eterogeneo, perché ognuno ha il suo mondo, allora dobbiamo pescare dentro a un immaginario visivo che deve essere il più condiviso possibile. Quasi tutti noi conosciamo l'associazione Fredon Kishot e Molina Vento. Vuol dire che tutti al mondo la conoscono? Ovviamente no, se mostrassimo questa illustrazione a qualcuno, a un indigeno nella foresta amazzonica, riconoscerebbe forse il cavallo come noi abbiamo riconosciuto la giraffa prima, ma ovviamente si perderebbe il senso narrativo di tutta l'illustrazione. Ci sono poi dei modi per comunicare in maniera inequivocabile con le immagini. Ad esempio il disegno tecnico. Se ho bisogno di far produrre una valvola a Taiwan, non gli mando di sicuro una descrizione scritta, gli mando questo disegno che è inequivocabile, la valvola così va costruita. Il problema è che c'è un linguaggio e delle convenzioni standardizzate iper specialistiche e noi vogliamo parlare a un pubblico ampio, milioni di persone, non solo agli ingegneri, con buona pace dagli ingegneri. Il fatto è che appena usciamo da quelli che sono gli standard e la sicurezza delle convenzioni di un disegno tecnico, l'incomprensione è subito dietro l'angolo. Per dirla con le parole del filosofo Popper, è impossibile parlare in modo tale da non essere preinteso. In questa frase il termine parlare può essere facilmente sostituito dal termine comunicare e quindi si applica anche alla comunicazione visiva. È pieno il mondo di immagini ambigue, quindi immagini che noi possiamo vedere in un modo o in un altro. Questa viene mostrata in tutti i corsi di design, ormai da fino a 800 quando è stata disegnata e il nostro cervello deve decidere se sta vedendo la testa di un anatra o la testa di un coniglio. E quindi c'è questa ambiguità insita nelle immagini. Quando come me per lavoro dovete comunicare un concetto preciso utilizzando un'immagine, capite che questo è un bel problema. Lo è, infatti ci sono un sacco di situazioni come quella dell'immagine di piazza di Nammene, il dito che sembra un pisello, ma allo stesso tempo è proprio questo che dà un potere evocativo e comunicativo e anche narrativo a un'immagine. Se voi guardate questa mia illustrazione, la vostra mente deve decidere un contesto. Sto guardando della frutta o sto guardando dei segnali di divieto? Sono due elementi in apparenza slegati ma la vostra mente è costruita per cercare un ordine nel caos e quindi se questi due elementi sono presenti in pagina deve esserci una relazione e se non c'è è la vostra mente che la crea e quindi che va a capire che questa illustrazione è un'illustrazione che parla di proibizionismo in tema dei codici naturalmente. Spesso mi viene chiesto da dove vengano le mie idee e in realtà è un processo estremamente semplice, in due fasi. Prima fase, disperazione totale, lascio il mio lavoro perché non ho trovato un lavoro in banca sicuro e la fase successiva consiste nel cercare dentro quella che è la mia memoria, la mia cultura visiva degli elementi che possano andare a rappresentare determinati parti di un articolo che sto cercando di illustrare. Se poi sono fortunato riesco a trovare qualcosa come il sacchetto di denaro, il coniglio che esce dal cilindro che fanno anche un click a livello grafico. Ma questa è solo la mia parte del lavoro perché a completare il processo siete voi, siete voi che unite i puntini. È sostanzialmente l'incontro, ricordiamoci quello che abbiamo detto all'inizio, comunicare non è quello che diciamo ma è quello che arriva agli altri. Con questo non voglio dire che voi siete spettatori passivi e un'immagine vi può colpire nella maniera X o nella maniera Y. Sto proprio dicendo che siete voi i protagonisti di questo processo, siete voi che mettete insieme gli elementi perché io mi limito a metterli in quel rettangolo ma la magia non avviene in quel rettangolo, avviene dentro di voi. Sostanzialmente è l'incontro tra quella che è la mia cultura visiva e la vostra che crea il significato che arriva al vostro cervello. Sta di fatto che se dovessero atterrare gli alieni dopo domani e dovressimo comunicarci in qualche modo forse chiameranno un illustratore. Grazie. 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 Grazie.